Allora, grazie per questo invito. Come diceva prima Paolo, io sto lavorando, adesso praticamente è finito, a un volume di Calvino che raccoglie tutto quello che Calvino ha scritto sul visivo, sul guardare. Sostanzialmente comincia nel 1941 e termina nell'85, che è l'anno della sua scomparsa. Cinema, fotografia, arte, visioni, paesaggio e collezioni. È un grosso volume di cui ho fatto, diciamo, una prefazione e ho scritto dei testi introduttivi alle singole parti, perché è un materiale molto vario, potete immaginare. Allora, io comincerei un po' a raccontare qual è il rapporto tra Calvino e lo sguardo, il guardare. Non sono stato precoce per niente, neppure a leggere. Così ha scritto di sé Italo Calvino. Ma c'è da dubitare che sia vero, perché a 17 anni, nel 1940, adesso le vediamo, pubblica quattro vignette sul Bertoldo di Giovanni Guareschi e Giovanni Mosca e a 18 scrive tre recensioni cinematografiche nel giornale di Imperia, la prima delle quali è dedicata a Totò, al secondo o terzo film di Totò e riesce in poche righe a dare una definizione della maschera di Totò. E' proprio dal disegno, adesso se le facciamo vedere una dopo l'altra, ma insomma sono vignette che stavano in una rubrica che si chiama Il Cestino, dove i giovani disegnatori, collaboratori del giornale, ma soprattutto ragazzi, il più presente è Oreste del Buono, che ne ha fatte tantissime, mandavano le loro vignette e Guareschi faceva sotto un commentino e le pubblicava. Bisogna proprio cominciare da questo disegno per capire cosa significa per Calvino guardare e nel 1960, scrivendo al suo editor francese François Val, scrive una frase molto indicativa per spiegargli che cosa lui fa. Quello a cui io tendo, l'unica cosa che vorrei insegnare è il modo di guardare, cioè di essere e di essere nel mondo. Queste vignette sono fermate con lo pseudonimo Iago e probabilmente lo pseudonimo Iago viene da Santiago, che era il nome di battaglia del partigiano Italo Calvino. Compaiono appunto su questo giornale il Bertoldo nel 1940 e sono anche influenzate da un disegnatore di cui Calvino ha parlato per la prima volta con Gianni Celati in una conversazione, questo disegnatore Antonio Rubino, che è stato molto importante ed era un frequentatore della casa dei Calvino alla Villa Meridiana e che intratteneva il piccolo Italo con questi disegni stile art nouveau. In un modo fulminante, Celati in una intervista e in una conversazione sul tema della fantasia, ha sostenuto che la forza immaginativa dello stesso scrivere di Calvino deriva proprio da questo marchio di fabbrica, dall'essere stato, prima ancora che uno scrittore, un disegnatore. Ricordava che in una delle conversazioni avute con lui a Roccamare, che era questa casa che aveva in Toscana, Italo si era definito il maggior scripturalist italiano. Dice un termine, dice Celati, che non sapeva bene dove l'avesse pescato, ma che secondo lui gli sembrava perfetto per definire, e qui la citazione di Celati, il lavoro di fantasia che seguiva a certi spunti narrativi e usava la scrittura come una specie di disegno a mano libera. Con una battuta autoironica, Calvino spiegava a Celati la sua necessità di porre dei limiti, quello che i francesi chiamano le contraintes, proprio per non seguire troppo pedissequamente la sua capacità di disegno, il cui tratto, diceva Calvino, sgorga da sé sul foglio come se fosse guidato da qualcosa di irresistibile. Cosa che accade sovente ai disegnatori? E prima di tutto a Sol Steinberg, che era il disegnatore molto ammirato da Calvino, che disegnava appunto prima sul Bertoldo e poi su un'altra rivista che si chiama Settebello, che è stato uno dei grandi disegnatori. Conosciutissimo, se vi mostro dei disegni di Sol Steinberg, dite ah, l'ho visto, ma spesso nessuno dei disegnatori, come dei grafici, sa mai dire il nome di chi ha impaginato quelle copertine o fatto quei disegni. Diceva, bisogna mettere dei limiti, diceva Calvino, imporre alla facoltà immaginativa un argine, perché questo gli impediva di diventare, lui diceva, uno scrittore dilettante. Io devo pormi degli ostacoli, altrimenti sono uno scrittore della Domenica. In un articolo del 1984, che sta in collezione di sabbia, che è la, diciamo, la recensione di una mostra, si intitola Scrittori che disegnano, una mostra a Parigi, ha scritto una cosa molto bella che ci fa capire il rapporto che c'è in lui tra il disegnare e lo scrivere, che spesso vengono ritenute due cose separate. La spinta dell'energia grafica, di momento in momento, si trova di fronte a un bifio. Continuare a evocare i propri fantasmi attraverso l'uniforme stilicidio alfabetico, oppure inseguirli nell'immediatezza visiva di un rapido schizzo? È probabile che parli di sé, ma, insomma, in fondo, dopo questi disegni pubblicati, ha continuato a fare delle caricature degli autoritratti, delle caricature del duce, dei genitori, del padre in particolare, ma, insomma, ha scelto l'uniforme stilicidio alfabetico. Per Calvino non era così facile scrivere come spesso crediamo. Com'è che ha cominciato? Da dove viene questa facoltà immaginativa che si tramuta in disegno, ma poi finisce per diventare scrittura-letteratura? In una delle lezioni americane, Visibilità, Calvino scrive così. Passavo le ore percorrendo i cartons di ogni serie da un numero all'altro. Si riferisce al corriere dei piccoli che aveva in casa, che sua madre aveva cominciato a comprare e a collezionare prima della sua nascita. Passavo le ore percorrendo i cartons di ogni serie da un numero all'altro. Mi raccontavo mentalmente le storie interpretando le scene in modi diversi. Producevo delle varianti, fondevo i singoli episodi in una storia più ampia, scoprivo e isolavo, collegavo delle costanti in ogni serie, contaminavo una serie con l'altra, immaginavo nuove serie in cui personaggi secondari diventavano protagonisti. Una volta imparato a leggere, scrive sempre Calvino, il giovane Ittalo ha un vantaggio appena minimo. Comunque io preferivo ignorare le righe scritte e continuare nella mia occupazione favorita di fantasticare dentro le figure e nella loro successione. Non sapeva ancora leggere quando ha cominciato a lavorare con la fantasia sopra queste immagini disegnate. Tra l'altro quando vedete Calvino parlare c'ha sempre un po' come dire di difficoltà a parlare, lo dice anche, balbettava. Lui dice che probabilmente l'aver fatto questo gioco con le figure del Corrierino dei Piccoli gli deve aver provocato dei, lui dice, dei ritardi nella capacità di concentrarsi sulla parola scritta, per quanto la lettura delle figure senza parole era stata per lui, proprio questa è una sua frase, scuola di fabulazione, di stilizzazione, di composizione dell'immagine. Insomma, se dobbiamo credere a Calvino, siamo davanti a uno scrittore che ha trasformato questa propria capacità immaginativa che aveva nel disegno la sua prima forma in qualcosa d'altro. Guardare è un'attività che implica allontanamento dall'oggetto guardato. Più di un critico rispetto a Calvino ha parlato di pathos della distanza, descrivendo in lui un atteggiamento simile a quello di uno dei suoi più celibri personaggi, cioè Cosimo Piovasco di Rondò, che come sapete è il protagonista del Barone Rampante, il quale vive la propria vita sugli alberi e guarda da lassù il mondo in cui abitano e agiscono tutti gli altri, dai familiari fino alla donna che ama, Viola. Ho anche un altro personaggio dello scrittore ligure, Amerigo Ormea, protagonista del romanzo La giornata di uno scultatore, è interessato all'attività del guardare, in particolare ai ritratti fotografici delle monache del Cottolengo che si recano al seggio elettorale ed è una bellissima serie di considerazioni che lui fa sull'essere fotografati. Veniamo sempre male se noi guardiamo le foto sulle carte di identità o sui passaporti e perché? Vi rinvio a questa pagina che è uno dei capitoli, un brevissimo capitolo, il settimo della giornata di uno scrittatore, che è un libro molto bello. Tra l'altro la parola scultatore, che qui indica il servizio che Ormea compie nel seggio elettorale, vuol proprio dire guardare, indagare, porre attenzione, fino all'ultimo personaggio di Calvino che è il signor Palomar, protagonista di uno degli ultimi libri, esce nell'83, ricordo che Calvino è scomparso nell'85, che è un campione nevrotico di osservazioni e di visioni. è vero che il cuore è più importante della mente o comunque in Calvino, che viene passato per essere un scrittore molto mentale, invece c'è qualcosa di diverso. Cioè l'istanza visiva che c'è in Calvino, proprio quella che lui descrive in modo fattivo guardando le vignette del Corriere dei Piccoli, presenta qualcosa di non razionale. È l'immaginazione, che al tempo stesso è in lui, e qui è lo scatto che fa Calvino, è collegato con una parte razionale della sua personalità. Le due componenti del suo carattere, immaginazione e ragione, si fondono in una forma unica. Nella lettera a Frasval del 1960, lui spiega che l'immaginazione funziona come un motore d'avvio della narrazione, con le sue componenti intuitive, irrazionali, illogiche, che implicano immediatamente dopo però la presenza di una logica che scandagli l'interno dell'immagine stessa per dare forma a una storia. Cioè dare forma a una storia vuol dire costruire qualcosa che è come la costruzione di una casa, di un edificio, cioè ha una propria logica, ha una propria struttura. Nella lezione sulla visibilità, che vi invito a leggere, elenca le proprie procedure visive secondo un ordine progressivo, proprio in modo, diciamo così, è il Calvino razionale che parla, osservazione diretta del mondo reale, trasfigurazione fantasmatica e onirica, anche i sogni aiutano, processo di astrazione, condensazione, usa un termine della fisica chimica, e interiorizzazione dell'esperienza sensibile. Mentre i primi due, osservazione e trasfigurazione sono abbastanza consueti in molti scrittori, l'astrazione indica invece la presenza di un elemento geometrico, aspetto che è stato a volte indicato come un limite dell'ultimo Calvino, ma che senza il quale quella immaginazione appunto collegata ad aspetti irrazionali, ad aspetti non direttamente governabili, non funzionerebbe, non farebbe funzionare alla fantasia. In questa sequenza, all'astrazione, succede la condensazione, come dicevo prima, che indica il passaggio da uno stato all'altro della materia immaginativa, proprio come accade la materia stessa nella transizione, come sappiamo, dal vapore a quello liquido, dallo stato di vapore a quello liquido. Poi giunge all'interiorizzazione, per cui le immagini di partenza, sono le immagini dei nostri antenati, il barone rampante, il ragazzino che sta sugli alberi, il visconte dimezzato che è stato tagliato a metà da una cannonata, o il cavaliere inestente, dentro l'armatura non c'è nulla. Sono queste le immagini che accendono la fantasia, ma bisogna passare a una interiorizzazione, per cui l'immagine di partenza diventa un motivo che indirizza il racconto in una precisa direzione narrativa. Il primo romanzo di Calvino, che forse molti di voi hanno letto a scuola, Il sentiero dei nidi di ragno, Pin cerca questo posto, i ragni in Liguria fanno i nidi, cosa che molti non sapevano, perché normalmente fanno delle tele sospese, insomma, nei punti delle stanze, delle case. Questo ragazzino, Pin, nasconde l'oggetto topico della storia, che è questo revolver, sottratto all'amante tedesco della sorella che è una prostituta. I nidi sono metafora della sua aspirazione alla protezione e all'affetto. Quindi ognuno di questi oggetti o luoghi o immaginazioni corrispondono a qualcosa che è appunto del cuore, cioè che appartiene all'elemento del sentimento, all'affezione. L'esperienza dei sensi è sempre presente nei testi di Calvino, perché esiste un'importanza decisiva tanto nella visualizzazione come nella verbalizzazione del pensiero. Questa è la grande difficoltà spesso, no? Abbiamo delle immagini, ma com'è che riusciamo a tradurle nelle parole? E' questo passaggio misterioso tra la visualizzazione e la verbalizzazione del pensiero, fino a diventare persino un oggetto di un libro, purtroppo incompiuto, che si chiama Sotto il sole giaguaro, che doveva essere dedicato ai cinque sensi, ma non è stato completato. Ce n'è uno dei bellissimi racconti, è sullo dorato. Dunque, non tutto è razionale nel procedimento immaginativo di Calvino. Anzi, è esattamente vero il contrario. Scrive Calvino, le soluzioni visive continuano ad essere determinanti e talora arrivano inaspettatamente a decidere situazioni che né le congetture del pensiero né le risorse del linguaggio riuscirebbero a risolvere. Lo scrittore sa che la fantasia imprima uno scatto all'immaginazione, ma da sola non basta, per cui l'elemento costruttivo, logico, geometrico diventa fondamentale. Per Calvino, guardare è un atto complesso che attiene al sistema occhio-mente, su cui si sofferma in Palomar e in Collezione di sabbia, che è un altro bellissimo libro che raccoglie dei suoi testi, prevalentemente apparsi sui giornali, tranne l'ultima parte che è dedicata a un viaggio in Iran, a un viaggio in Giappone e a un viaggio in Messico. E sono delle mostre, sono delle esposizioni spesso molto strane e bizzarre. Appunto, Collezione di sabbia è la collezione che un artista espone in questa mostra parigina, dove ci sono i vasetti delle sabbie appartenenti a tante spiagge del mondo, su cui Calvino ragiona su che cos'è stata la sua vita, se tutto il suo scrivere, questa polvere di parole che non ha, come dire, è una testimonianza della vita ma non è la vita, sono come i suoi vasetti, cosa gli resta? E quello che Calvino cerca, dice, è toccare la struttura silicea dell'esistenza, esattamente come fa la sabbia. guardare dunque è un atto complesso, il sistema occhio-mente, ma c'è anche una risorsa, oltre a quella biologica, diciamo del nostro corpo, della nostra mente, antropologica, ma anche la cultura. La cultura fornisce delle immagini, in particolare la cultura scientifica, le cosmicomiche, il cui protagonista è questa sorta di proteo, il cui nome impronunciabile è QFWFQ, che si trasforma in tanti personaggi diversi, ed è il primo personaggio della storia della nostra letteratura, siamo all'inizio degli anni Sessanta, quando compaiono su delle riviste che non ha né identità, né storia né volto, cioè fa narrazione usando un personaggio invisibile. Per conoscere questo mondo figurativo, anche la cultura è estremamente utile, quindi irrobustisce la propria naturale immaginazione ricorrendo a che cosa? A delle frasi o a delle immagini trovate nei libri di scienza, o su una rivista che allora era molto diffusa e che è servita anche a Primo Levi per i suoi racconti, che è appunto la scientifica america, cioè le scienze, che è una rivista che continua a uscire, e Calvino era molto interessato ai buchi neri, era interessato a tutte queste cose misteriose che poi, l'elemento alla fisica quantistica, altre cose che oggi sono ritornate, diciamo così, in auge e popolari. La scrittura diventa anche disegno. C'è un personaggio del Cavaliere inesistente che è un libro del 1959, Suor Teodora, che sta raccontando una storia, è la voce narrante, lei si dichiara io sono l'autrice della storia, dice che sta imbastendo questa storia utilizzando delle carte di un'antica cronaca, e a un certo punto, nel suo, diciamo, nervosismo, nella sua forza nervosa di raccontare, nel capitolo nono, per accelerare il ritmo del suo racconto, si immagina di passare direttamente al disegno. Ecco che torna, diciamo, l'istanza disegnativa di Calvino. è descritto così, istoriare ogni pagina con due le battaglie, oppure incidere il foglio per mostrare il percorso di una biscia in mezzo all'erba. Ma in realtà noi leggiamo che lei vuole disegnare, ma lo dice con le parole. È come se la porta, diciamo, verso il disegno, che Calvino aveva aperto in queste vignette, in altre cose che ha disegnato, si fosse, come dire, un po' chiusa. Ma ritorna come un'esigenza. C'è una storia molto bella, sempre in un altro libro dello stesso periodo, del 67, T con Zero, si intitola Origine degli uccelli. Lo scrittore utilizza l'espediente della sceneggiatura e del fumetto per raccontare i cartons, e scrive così. Nella striscia di fumetti che segue si vede il più sapiente di tutti noi, il vecchio U, che si stacca dal gruppo. Quindi è un procedimento esattamente opposto a quello che aveva descritto, o che descriverà poi nella lezione sulla visibilità, dell'attività infantile nel Corriere dei Piccoli. Che cos'è disegnare? Che cos'è scrivere? Tutto avviene su una superficie. Questa superficie è il foglio. È il foglio di carta, è il foglio da disegno, e il tema della superficie è uno dei temi più importanti del visivo di Calvino. Non solo la superficie dei quadri o delle fotografie o delle immagini, su cui ha scritto tanto, anche il cinema è una superficie, è una superficie luminosa il cinema, ma è il mondo stesso che si presenta agli occhi di Calvino come una superficie, il paesaggio. C'è un bellissimo testo, una prosa che è stata pubblicata nel 71, poi è apparsa solo dopo la morte di Calvino, raccolta in un volume di scritti vari, che è dedicata al paesaggio ligure, il cui paesaggio è appunto presentato con una prosa molto astratta. Sopra, sotto, a destra, sinistra, davanti e dietro. Vuole aggirare, Calvino è il problema della profondità. Ecco, qui viene a un punto abbastanza importante, con un aforisma, nella sua lezione sulla leggerezza, che è la più citata di tutte, appunto queste virtù, valori che Calvino presenta, o meglio avrebbe dovuto presentare ad Harvard in una serie di lezioni, valori per il prossimo millennio, quello dove siamo noi ora, adesso. Cita una frase di questo scrittore e anche drammaturgo, Ugo von Hofmannsthal, che compendia l'idea del mondo visibile in una frase sola, molto semplice e castica. La profondità va nascosta. Dove? Alla superficie. La superficie è una metafora che sintetizza i due aspetti che Calvino rifiuta in modo dichiarato, in tutta la sua opera. La profondità psicologica, ovvero le istanze dell'io, e la gravità del pensiero, cioè il peso del mondo che tutti noi conosciamo molto bene. La predilezione per il visibile si connette sicuramente al suo carattere e in quella lettera a François Val lo dice molto bene. Questo mio carattere è così. Tutti mi rimproverano che i miei racconti finiscono sempre bene, ma io sono fatto in questo modo, non saprei fare diversamente. Il signor Palomar, che è la sua controfigura, che è una sorta di schermo sottile, che lo separa dalla identificazione completa con il suo autore, cioè Italo Calvino, sentenza in questo modo. Solo dopo aver conosciuto la superficie delle cose, si può spingere a cercare quel che c'è sotto. Ma la superficie delle cose è inesauribile. Per questo Calvino dà molta importanza alla descrizione, quale strumento conoscitivo del mondo. Una volta nelle scuole si facevano, almeno alla mia epoca, ci davano degli oggetti o delle forme, oppure il paesaggio, guardare fuori dalla finestra e descrivere attraverso le parole. La descrizione è un problema insolubile. Calvino ha fatto l'introduzione a un'antologia scolastica che la Zianichelli ha pubblicato negli anni 70, nel 72. Lui ha scelto dei brani, adesso Mondadori l'ha ripubblicata in una edizione anche per ragazzi, dove ci sono tutte le parti selezionate, diciamo, dell'antologia degli scrittori da parte di Calvino, con delle introduzioni. E la parte dedicata alle descrizioni ha una paginetta, perché poi Calvino è anche essenziale nello scrivere la ricerca della parola giusta al posto giusto, ha anche il senso della brevità. Una delle lezioni americane è dedicata alla rapidità, di cui la fiaba è la quintessenza. Le fiabe sono brevi, icastiche, serrate, veloci. Dice così a proposito della descrizione. Descrivere vuol dire tentare delle approssimazioni che ci portano sempre un po' più vicino a quello che vogliamo dire e nello stesso tempo ci lasciano sempre un po' insoddisfatti. Per cui dobbiamo continuamente rimetterci a osservare e a cercare come esprimere meglio quello che abbiamo osservato. L'inesaurabilità della superficie ha un doppio valore. Da un lato è il valore positivo, quello che sottolinea Calvino, cioè ci dispone all'osservazione del mondo con uno sguardo sorpreso, meravigliato, ma c'è anche un aspetto negativo, quello che lui dice. Non è possibile esaurire nessuna cosa, nessun oggetto con una descrizione. Figuriamoci la superficie del mondo. Il signor Palomar, nevrotico, descrittore di questo universo visibile, manifesta una insoddisfazione nelle sue esplorazioni visive. È uno scacco continuo fino a che, nell'ultimo capitolo, muore. Il tema della scontentezza, che c'è tantissimo in Calvino, emerge in un modo specifico nelle pagine che lui dedica alla pittura, là dove descrive o spiega l'importanza che aveva avuto per la sua generazione Picasso. Picasso è l'artista per eccellenza, che ogni cosa che fa o tocca, ogni superficie, ogni oggetto, ogni forma, diventa arte. E dice Calvino, in un testo del 67, in cui paragona Vittorini, il suo maestro, che è morto da un anno, a Picasso e anche a Cézanne, dice, parlando di Picasso, qui entra in gioco la differenza tra la figura e la parola. Esiste una felicità del dipingere, ma una felicità dello scrivere non esiste. È una cosa che ha ripetuto tante volte, è diventato come un rovello per lui. Addirittura, presentando un artista torinese su Breno nel 71, dice, sarà che chi si esprime col pennello è sempre più felice di chi si esprime con la penna? Insomma, nella sua aspirazione ad una scrittura c'è questa volontà di abolire la profondità dell'io, le istanze psicologiche, la ricerca di una oggettività quasi assoluta. E gli sembra di coglierlo negli artisti, di non riuscirci lui. Tant'è vero che se è una notte d'inverno un viaggiatore, che è un romanzo composto di dieci inizi di romanzi, con due personaggi, la lettrice e il lettore, che sono alla ricerca di questo libro, che non riescono mai a completare e ogni volta incontreranno l'inizio di un altro libro, a un certo punto, nell'ottavo capitolo, compare Silas Flannery, che è la controfigura di Calvino, che è uno scrittore. È un ennesimo alter ego nella lunga galleria dei protagonisti di Calvino, perché Calvino è uno scrittore molto autobiografico, però bisogna saperlo guardare. E che cosa dice Silas Flannery? Esprime un desiderio di Calvino, come scriverei bene se non ci fossi? Se tra il foglio bianco il ribollire delle parole e delle storie, che prendono forma e svaniscono senza che nessuno le scriva, non si mettezza in mezzo quello scomodo diaframma che è la mia persona. Ma come sa perfettamente Calvino, è impossibile, neppure ricorrendo alle macchine elettroniche, come lui aveva pensato, e qui siamo ivrea, insomma, qualcosa ne sapete, come aveva pensato negli anni Sessanta, neppure in questo modo l'opera si produce da sé. Ci vuole sempre qualcuno che la istruisca in attesa dell'intelligenza artificiale, che ci sostituisca. Ma insomma, ai suoi occhi la pittura sembra possedere questa prerogativa, si fa da sola. Gli artisti sanno benissimo che non è così. Ma insomma, ognuno ha i suoi rovelli, ogni scrittore, ogni artista ha il suo rovello. Nonostante gli scacchi visivi e concettuali dei suoi personaggi, a cui presta la sua voce, Calvino resta ancora oggi uno degli scrittori che ci forniscono le coordinate per decifrare la realtà in cui noi viviamo. Un mondo in cui, come ha scritto nelle lezioni americane, in quella sulla leggerezza, le macchine di ferro ci sono sempre. Qui fuori ci ho messo quasi 20 minuti con la mia macchina per arrivare fino al parcheggio. Esistono le macchine di ferro. Tuttavia la realtà, e noi viviamo in questa doppia, in questa discrasia, in questa divisione, tuttavia la realtà si è poverizzata sotto la spinta di flussi di informazione che transitano attraverso il mondo, ma anche attraverso di noi, attraverso i software dei computer, come Calvino aveva cominciato a capire nel 1985 quando stava scrivendo questa lezione. Il nostro mondo, scrive, pare reggersi su entità sottilissime, come i messaggi del DNA, gli impulsi dei neuroni e quarks, i neutrini vaganti nello spazio dall'inizio dei tempi. Insomma, la lezione che ci ha trasmesso attraverso le pagine dedicate alla visione e al guardare è esattamente questa. La lettura del mondo è sempre possibile, per quanto difficile, complessa e spesso destinata alla sconfitta. Ma per capire, e qui mi avvivo quasi alla conclusione, per capire qual era il punto di vista con cui Calvino guardava il mondo bisogna tornare alla risposta di una data da Calvino a un'intervista del 1957 per una rivista che si chiama Ulisse, è l'anno stesso della pubblicazione del Barone Rampante. E Calvino non riusciva a scrivere un romanzo tradizionale. Se voi guardate i romanzi di Calvino, che non sono tanti, sono racconti, c'è un primo romanzo, il Barone Rampante, gli altri due antenati, il Cavaliere e il Visconte, sono, come dire, racconti lunghi o romanzi brevi. Non gli riesce di scrivere proprio un romanzo come si deve, come si facevano all'inizio del Novecento o nell'Ottocento. Dice questa frase, c'è Thomas Mann, si obietta, eh sì, lui capì tutto quasi del nostro mondo, ma spingendosi, o meglio scusate, sporgendosi da un'estrema ringhiera dell'Ottocento. Noi guardiamo il mondo precipitando nella tromba delle scale. Cosa si vede precipitando nella tromba delle scale? Il mondo che scorre a velocità sempre più accelerata, un flusso di immagini che ha aumentato tantissimo negli ultimi decenni. Sono immagini difficili da arrestare e difficili da comprendere. Calvino ha anticipato la situazione in cui si trova qualsiasi scrittore che voglia fornire un'immagine convincente e precisa del mondo contemporaneo. Ma un'immagine, oltre a questa, di guardare il mondo precipitando dalle tromba delle scale, ce la fornisce alla fine della lezione sulla leggerezza, che è dedicata a un racconto di Kafka. Un'immagine opposta e simmetrica alla caduta nella tromba delle scale. Si tratta di un racconto di Kafka intitolato Il Cavaliere del Secchio, che è stato composto nel 1917 sul finire del primo conflitto mondiale che aveva coinvolto l'Europa e mandato in frantumi il suo assetto geopolitico. Scritto in prima persona, racconta il tentativo compiuto da un personaggio narratore di farsi dare un secchio di carbone per riscaldarsi nel freddo inverno di guerra. Il secchio si trasforma in una cavalcatura e lo trasporta per aria, come se si trovasse sulla groppa di un cammello, scrive Kafka. L'esito è tragico. La moglie del carbonaio, da cui si è recato, che sta in un sottoscala, si è recato col suo secchio per riempirlo di carbone, lo scaccia col grambiule come si fa con una mosca. L'effetto è che il secchio vola via come se fosse un fuscello e anche il personaggio Cavalcioni gli va dietro e entrambi si perdono oltre le montagne di ghiaccio. L'immagine di quel volo è opposta ma analoga al precipitare nella tromba delle scale e l'esito appare il medesimo. Forse con quella frase, affidata a un'intervista così come con questa storia di Kafka, il cavaliere del secchio, con cui conclude la sua bellissima lezione sulla leggerezza, Calvino voleva dirci qualcosa sul modo in cui siamo costretti a guardare la realtà, un'allegoria o forse una similitudine se si vuole che serve a farci riflettere sul nostro modo di guardare oggi il mondo. Grazie.